Il meteo di martedì 19 settembre, cielo da nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con schiarite a tratti ampi e durature a partire dal pomeriggio, rovesci o temporali sparsi localmente intensi in esaurimento dalle ore centrali della giornata, temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in lieve diminuzione, vento moderato sui settori interni, mare inizialmente poco mosso con moto ondoso in rapido aumento fino a diventare molto mosso nel pomeriggio. Grazie